I rapporti tra l'amministrazione comunale e le società del ciclo dei rifiuti SRR4 e impianti SRR in quest'ultimo frangente sono tornati ad essere piuttosto turbolenti. La nuova proroga del servizio a Tecra e la mancata partenza di quello in ausa hanno prodotto fibrillazioni istituzionali sfociate in un ricorso al TAR preannunciato da impianti SRR. Nonostante le incomprensioni attuali, in municipio la scorsa settimana è arrivata la firma sulla convenzione proposta dalla SRR4. Si tratta dell'atto che permette al comune di usufruire della piattaforma di Timpazzo per il conferimento e il trattamento dei rifiuti solidi urbani. Le difficoltà finanziarie del municipio che deve fare fronte ad un'emergenza dei conti con pochi precedenti negli ultimi anni in ogni caso non possono condizionare una procedura che va necessariamente definita anche perché non ci sono altre soluzioni rispetto a quella di Timpazzo. In base alle tariffe predisposte da impianti SRR che gestisce il sito, Palazzo di Città ha impegnato somme per un milione e mezzo di euro che trovano copertura nell'ultimo bilancio approvato, quello precedente all'emergenza finanziaria. Sono costi che dovrebbero poi avere riscontri con gli incassi dell'Atari sui rifiuti in base al piano economico finanziario del 2022. Nel provvedimento del settore ambiente si precisa che la mancata ratifica della convenzione potrebbe causare danni patrimoniali certi e gravi per l'ente. Quello del ciclo dei rifiuti in attesa del passaggio definitivo al servizio in house si conferma uno dei capitoli finanziariamente più impegnativi per le risorse attuali del municipio che come abbiamo già riferito deve fare fronte anche agli impegni in passato assunti con la transazione sui decreti ingiuntivi di Tecra e che dal 2019 impegna un milione e 200 mila euro all'anno fino almeno al 2024.